Eccolo il gnegnazzo che punta e va, ancora Jeremy, 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 rigore, 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 calcio di rigore, stiamo belli zitti, calcio di rigore, calcio di rigore, fallo, vediamo, insomma, di De Vrij su Menez, Menez fa il paio con quello di prima di Radu su El Sharawi, vediamo, c'era il fallo di prima e c'è il fallo di adesso, vediamo, Menez sulla palla, Jeremy, Jeremy contro Berisha, subito guarda, subito le espressioni, ma guardatevi prima il fallo di Radu su El Sharawi, la gomitata sul petto, visto l'espressioncina, che doveva essere espulso Radu, Vediamo, Jeremy, parte Menez, gol, Jeremy, pausa d'attenzione rispetto, Menez, 3-0 per noi, 3-0 per noi, dai che c'è posto sul carro, dai che c'è posto sul carro, come c'è posto sul carro ragazzi, come c'è posto sul carro, Brutto pensare in questo momento che ci siano dei milanisti che rosicano, milanisti, ma vediamo, 3-0 per noi, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, Vediamo, stiamo zitti, il mister, carica il mister, carica il mister, carica il mister, vieni di carico, Grazie a tutti.